Non sono bastati oltre 800 abisi di garanzia da parte della Procura della Repubblica di Salerno scattati nel 2013 per annullare completamente condotte fraudolenti che ancora una volta anche oggi vede i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno attuare un provvedimento di sospensione nei confronti di due infermieri in servizio all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno per aver truffato sulle ore di servizio. I militari dell'arma del NAS hanno eseguito un'ordinanza di misure a cautelare personale disposta dal GIP di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica diretta dal procuratore Giuseppe Borrelli nei confronti di due infermieri Rosa, Izzo e Raffaele Caputo sottoposti alla sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio o servizio per 12 mesi. Ad entrambi gli infermieri impegnati nell'area sterilizzazione dell'ospedale di via San Leonardo sono stati contestati reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e in osservanza delle norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Perché in più occasioni e in tempi diversi agendo in concorso tra loro quali dipendenti dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona avrebbero attestato falsamente con modalità fraudolente la presenza in servizio di Rosa, Izzo che avrebbe percepito indebitamente la retribuzione per ore di servizio non prestate. Le indagini svolte hanno consentito di ipotizzare in diverse occasioni che l'infermiere Rosa Izzo si fosse presentata in ospedale in orario successivo rispetto a quello accertato dai sistemi di rilevazione elettronica, avvalendosi del collega Raffaele Caputo per registrare l'inizio del servizio prima del suo arrivo. In occasione di due giornate festive la donna non si sarebbe nemmeno recata sul luogo di lavoro facendosi solo registrare la presenza in entrata e in uscita. Un nuovo capitolo di indagini che scatta all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno dopo l'inchiesta denominata Just in Time scattata nel luglio del 2013 che a distanza di 10 anni si è poi conclusa con l'archiviazione e l'assoluzione di quasi tutti gli imputati coinvolti nell'inchiesta dei furbetti del cartellino presso l'azienda ospedaliera universitaria mentre altre 6 persone sono state licenziate dall'azienda Ruggi. Inchiesta nata a seguito di una denuncia sporta dall'allora rappresentante dell'UGL il sindacalista Giuseppe Cicalese.